Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al nostro terzo appuntamento del ciclo di webinar Progettare e realizzare il sito web di un comune. Come sapete sono in un ciclo organizzato da Agit e Forma SPA in collaborazione col Dipartimento per la trasformazione digitale nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la transizione digitale Italia Login e nello specifico della linea 1 Gestione della trasformazione digitale. Vi ricordo che l'attestato per questo ciclo di webinar come di consueto vi verrà inviato alla mail che avete indicato nel momento dell'iscrizione su Eventi PA e verrà inviato a chi avrà partecipato ad almeno 3 dei 4 webinar previsti. Il programma della giornata di oggi ha come titolo l'architettura informativa, i contenuti e l'interfaccia utente del sito web di un comune. Approfondiremo quindi il modello di sito web di un comune che ci è stato proposto la scorsa settimana mediante la proposta di template pronti all'uso e un pacchetto di strumenti per aiutare e offrire un'esperienza d'uso efficace e inclusiva per gli utenti. Quindi capiremo dove sono e come si utilizzano le risorse e gli strumenti messi a disposizione. In questo terzo incontro interverranno Matteo Vabanesi del Dipartimento per la Transizione Digitale che ci illustrerà l'architettura informativa del modello Comuni e Daniela Iozzo del Dipartimento per la Transizione Digitale che ci proporrà una relazione dal titolo La progettazione dei contenuti. Dopo uno spazio dedicato alla risposta alle vostre domande quelle che vi invito già da ora a porre in chat per permetterci di raccoglierle e proporle ai relatori andremo in pausa e avremo al ritorno in aula la comunicazione di Daniele Tabellini del Dipartimento per la Transizione Digitale che approfondirà il tema di progettare e realizzare l'interfaccia utente. Adesso voglio dare la parola a Stelio Pagnotta di Agig che prego di collegarsi. Eccolo, provo a parlare Stelio. Ciao, grazie. Ok, perfetto. Do la parola a Stelio che ci introdurrà a questo incontro di oggi e ci rivediamo più tardi. Buon webinar a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Come ha detto Teresa, siamo al terzo appuntamento di questo ciclo in cui stiamo approfondendo come progettare e come realizzare un sito web con particolare riferimento al modello proposto da Designers Italia relativo ai siti dei comuni. Quindi diciamo che oggi entriamo propriamente nel cuore. Sarà un webinar molto pratico. Saranno analizzati una serie di strumenti che sono messi a disposizione da Designers Italia con riferimento al modello dei siti web per i comuni. e naturalmente, faccio un link con le puntate precedenti, siamo partiti quindi da qual è la situazione del contesto. Nel primo webinar abbiamo visto anche qual è stata l'evoluzione che sta portando all'adozione delle linee guida sul tema, a come queste linee guida si raccordano in qualche modo con tutti quelli che sono gli strumenti pratici messi a disposizione da Designers Italia. Già nel corso del secondo webinar poi abbiamo visto, abbiamo introdotto il modello dei siti web per i comuni e abbiamo fatto anche un focus sull'accessibilità per capire quali sono alcuni accorgimenti dal punto di vista dell'accessibilità che devono sempre essere tenuti a mente nel momento in cui si vanno ad implementare questi strumenti. Quindi oggi andiamo ancora di più nel dettaglio di quello che è il modello proposto da Designers Italia. Come ha detto Teresa, parleremo sostanzialmente di architettura dell'informazione, di progettazione dei contenuti, ma anche di progettazione e realizzazione dell'interfaccia utente. Prima di dare la parola al primo relatore, vi ricordo soltanto che sia le registrazioni che i materiali dei primi due webinar sono disponibili sulla pagina dedicata di Eventi IPA, quindi laddove avesse necessità di recuperarli potete farlo, quindi sia le registrazioni che le presentazioni e i materiali utilizzati dai relatori. Quindi a questo punto do la parola al primo relatore, Matteo Vabanesi, del Dipartimento per la trasformazione digitale, che introdurrà il tema dell'architettura dell'informazione, ovviamente con particolare riferimento al modello proposto per quanto riguarda il modello dei comuni. Grazie. Grazie Stelio, spero che si senta, che si ottenga il lato tecnico. Buongiorno a tutti, sono Matteo Vabanesi, sono designer per il Dipartimento per la trasformazione digitale, come indicato giustamente Stelio. Ho una formazione praticamente di tipo giornalistica che piano piano è transitata sul digitale fino a specializzarsi sulla costruzione di ambienti informativi digitali e quindi fino, diciamo, di interessarsi di temi e tematiche relative all'architettura dell'informazione e all'organizzazione delle informazioni appunto all'interno di ambienti digitali. Spero di riuscire a trasmettere la stessa, diciamo, passione che mi è stata trasmessa a mia volta alle persone a cui ho imparato questa attività. Cosa faremo oggi? La scaletta di oggi prevede innanzitutto come obiettivo il comprendere il valore dell'architettura dell'informazione e naturalmente andare a approfondire quelli che sono i punti salienti dell'architettura informativa del modello comuni che è stato proposto anche nei webinar precedenti. Come scaletta ci sarà una breve introduzione su che cos'è l'architettura dell'informazione per poi andare un po' più verticali sull'architettura informativa del modello comuni e fare un rapido passaggio, un rapido overview sugli strumenti e le risorse che sono a disposizione insomma di tutti coloro che si trovano alle prese con il rifacimento piuttosto che la progettazione ex novo di siti e ambienti informativi in generale. Come prima cosa vorrei partire da questa introduzione che sembra non c'entri nulla ma che in realtà aiuta tantissimo a farci riflettere e a capire l'importanza dell'architettura informativa in merito ai contesti in cui viviamo e in cui siamo abituati ad agire in tutti i giorni. si narra che Franz Kun che è avvocato e traduttore del cinese che è vissuto a cavallo del Novecento si imbatté tra le sue traduzioni in un'enciclopedia cinese chiamata l'Emporio Celeste e i Conoscimenti Benevoli. Nelle pagine di questa enciclopedia gli animali venivano suddivisi in appartenenti all'imperatore imbalsamati ammaestrati lattanzoli che dovrebbe essere un tipo di suino le sirene animali favolosi cani randagi animali inclusi in questa classificazione che si agitano come pazzi gli innumerevoli che probabilmente erano le formiche non si sa, non è dato sapere i disegnati con un pennello finissimo di peli di cannello di cammello, scusate eccetera animali che hanno rotto il vaso animali che da lontano sembrano mosche ora, questa classificazione che si è rivelata poi fantastica è una classificazione che si trova all'interno di un racconto di Borges in altre inquisizioni ma ci aiuta per farci riflettere su un concetto fondamentale ovvero che i codici fondamentali di una cultura sono quelli che definiscono fin dall'inizio per ogni uomo quello che è l'ordine empirico il campo di possibilità entro cui lui si troverà a lavorare e soprattutto a organizzare elementi differenti dal pensiero al linguaggio agli ambienti in cui si vive ad esempio pensiamo un esempio potrebbe essere la classificazione di Linneo un altro esempio potrebbe essere benissimo il modo con cui ciascuno di noi organizza le proprie cartelle all'interno di un computer questo perché classificare significa creare una relazione tra elementi di una stessa classe piuttosto che tra elementi di classe diverse e naturalmente costruire un'architettura dell'informazione significa connettere gli elementi dello stesso ordine oppure di ordine differenti detto questo cominciamo a parlare di architettura informazione del modello comuni cioè applicata al caso pratico in oggetto allora innanzitutto come è stato emerso molto probabilmente anche nei webinar precedenti il processo di design su cui si basa tutto il modello comuni è un processo centrato intorno ai bisogni del cittadino il cosiddetto user center design l'architettura dell'informazione che in questo caso vedete scritta con la dizione inglese purtroppo EA c'è un problema anche qua di traduzione perché architettura dell'informazione AI e intelligenza artificiale si combattono diciamo l'etichetta però sostanzialmente detto questo l'architettura dell'informazione nasce all'interno dello spazio compreso fra quelle che sono le necessità degli utenti innanzitutto quindi vanno definiti i profili del pubblico e le necessità informative di questo pubblico per cui l'ambiente informativo viene progettato le tipologie di contenuto a disposizione quindi siano essi dei contenuti scritti video audio piuttosto che dei contenuti più strutturati e quelli che sono per più strutturati naturalmente intendo dati metadati sono magari contenuti più di tipo tecnico e le possibilità offerte dal contesto nel nostro caso naturalmente il contesto è il contesto della pubblica amministrazione per cui i vincoli normativi naturalmente i vincoli strategici che sono gli obiettivi dell'ente per cui insomma ci troviamo a riprogettare l'ambiente piuttosto che i vincoli economici e quelli tecnologici che impattano direttamente sul progetto come sapete faccio un piccolo passo indietro al webinar precedente il modello comuni nasce infatti da un grande lavoro di ricerca che è stato fatto coinvolgendo intervista cittadini stakeholder cioè portatori di interesse di comuni pilota sessioni di osservazione presso gli URP cioè gli sportelli di relazioni con il pubblico un'analisi sviluppata insieme al progetto MyPortal che ha coinvolto circa 150 comuni della regione Veneto piuttosto che l'analisi delle funzioni di nuovi comuni early adopter early adopter si intende che avevano adottato le indicazioni nelle linee guida di design diciamo prima di tutti gli altri e l'analisi di una serie di test utente che sono stati fatti appunto su cittadini e su compiti ben precisi di utilizzo dei siti web dai risultati della ricerca è emerso chiaramente che gli utenti del comune si suddividevano in 5 grandi categorie cittadini imprese visitatori istituzioni pubbliche amministrazioni naturalmente ciascuna di queste 5 grandi categorie ha dei bisogni differenti per cui il sito web insomma la ricerca ha fatto emergere che il sito web del comune è utilizzato principalmente per conoscere l'amministrazione per scoprire cosa fare nelle città oppure il quartiere è il caso classico degli eventi per accedere a servizi che riguardano i principali momenti della vita dei cittadini per ricevere sostegno ovvero per conoscere tutte le opportunità offerte dai comuni per lavorare con il comune dove naturalmente qua riferimento a bandi di concorso piuttosto che gare nella concessione di patrocini partecipare alla vita della comunità quindi le reti di volontariato le proposte segnalazioni oppure risolvere degli imprevisti ad esempio c'è stata un'interruzione momentanea della viabilità e questa interruzione momentanea fa sì che insomma il cittadino arrivi sul sito per chiedere per trovare l'informazione diciamo istituzionale inerente quel determinato problema ora sulla base dei risultati di ricerca i contenuti del modello comuni sono stati organizzati a partire da due assi fondamentali cioè content type e gli argomenti ci sono vari modi di classificare le informazioni in particolare ci sono modelli gerarchici cioè con una gerarchia ad albero modelli a faccette che si basano sulle proprietà dei singoli elementi modelli poligerarchici ovvero che possono essere radicati sotto più alberi e modelli misti in questo caso per l'architettura del modello comuni è stato scelto un modello misto in particolare semplificando un attimo la scelta di lavorare su dei content type ovvero dei tipo di contenuto definito dal suo uso e dalla sua struttura dati e gli argomenti che sono sempre diciamo delle modalità di presentazione del contenuto che permettono di associare i contenuti in maniera diversa lavorando su content type argomenti si è andato a lavorare su due assi ipotetici uno verticale e uno orizzontale l'asse verticale naturalmente è espresso da relazioni di gerarchia fra elementi diciamo ben individuati su categorie grosso modo è un po' come se agissimo su degli elementi scusate di una tassonomia e un asse invece più orizzontale dove si è privilegiato quella che si chiama la relazione di contiguità semantica tra differenti categorie in questo modo si è cercato di mettere insieme un po' semplicità e complessità cioè da un lato lavorando su delle categorie molto ben definite e dall'altro essendo aperte a quello che possono essere le suggestioni innate appunto dalle relazioni fra categorie anche differenti per farci un esempio per capirci è un po' come se noi avessimo un giornale cioè da una parte del giornale soprattutto da un punto di vista dello sviluppo diciamo dell'informazione digitale noi avremo come content type le notizie le fotografie piuttosto che i video piuttosto che quelle che possono essere linfografiche le tabelle questo tipo di content type può essere riorganizzato sulla base di argomenti per cui soprattutto online potremmo trovarci una videogallery con dei contenuti molto differenti che spaziano appunto dagli esteri dagli interni dalle notizie di cronaca e quindi è una modalità appunto per permettere una navigazione un'esplorazione di tipo orizzontale dei contenuti ed evitare quella struttura classica silos che sarebbe invece proprio delle alberature dell'organizzazione di contenuti di tipo gerarchico come risultato è stato scelto di privilegiare appunto la semplicità i content type che sono stati individuati sono questi quattro servizi documenti amministrazione e novità questi content type da un lato hanno una diversa struttura interna dei contenuti perché in qualche modo sono oggetti di una natura diversa al loro interno hanno però una forte coerenza logico semantica ed è quello appunto che li caratterizza faccio un esempio nella parte novità le notizie eventi comunicati stampa rispondono diciamo pienamente a quelli che sono anche un po' i principi della legge 150 del 2000 per cui permette alle amministrazioni pubbliche di comunicare con i cittadini e dall'altro lato garantisce ai cittadini il diritto di essere informati in questa slide vi ho voluto presentare volutamente quello che è stato il documento di progetto su cui ha lavorato il team precedente proprio per far vedere come l'architettura dell'informazione del modello è nata radicata in una certa ricerca e in un certo contesto storico ma è naturalmente un costrutto in evoluzione tant'è che sul modello è stata poi affinata e anticipo nelle prossime settimane partirà un'attività di come dire di aggiornamento di quelle che sono le voci degli argomenti dell'architettura informativa quindi non la struttura in content type ma piuttosto la struttura degli argomenti ora un altro dei motivi per cui è stata scelta questo tipo di impostazione c'è anche un motivo diciamo più teorico più speculativo se volete ovvero la legge di IC è una relazione tra il tempo impiegato per rispondere a un task piuttosto individuare un'informazione e il numero di opzioni che sono a disposizione come vedete l'andamento non è lineare perché fino a un certo punto l'aumento del numero delle opzioni comporta un aumento di tempo perché subentrano dei criteri in particolare l'ordine con cui vengono presentate le scelte il grado di familiarità con il sistema da parte dell'utenza che vanno un attimino a incidere sulle possibilità esplorative e soprattutto a ridurre lo stress esplorativo degli utenti questo è stato un punto fondamentale nella ricerca perché abbiamo lavorato su quello che è il concetto di salienza ovvero la capacità di un sistema di organizzare rispondere agli obiettivi per cui è stato concepito se vogliamo la capacità di una classificazione di portare in primo piano gli elementi pertinenti di una lista naturalmente questa salienza non è data e scolpita nella pietra ma nasce dall'attività di ricerca che viene fatta prima e quindi da tutta l'attività di ricerca sul modello comuni abbiamo individuato tutta una serie di accorgimenti per ridurre lo stress della scelta e favorire diciamo la navigabilità del sito istituzionale per i comuni l'altro asse come dicevamo l'asse orizzontale è quello dedicato agli argomenti e come vedete questo esempio illustra molto bene il funzionamento da un lato ci sono nelle parti verticali i content type mentre sul percorso di navigazione orizzontale vedete come i contenuti possono essere aggregati sulla base degli argomenti ad esempio noi abbiamo spazi verdi con area cani i documenti il bando di affidamento per il verde pubblico amministrazione parchi e giardini lavori per parchi e aree verdi più fruibili può essere una novità un contenuto che l'amministrazione decide di utilizzare da un punto di vista comunicativo la lista degli argomenti su cui si basa il modello comuni è grossomodo questa si tratta di una cinquantina di argomenti ora questi argomenti sono argomenti che nascono naturalmente da un lato dalla ricerca appunto che avevamo citato ma dall'altro anche con il confronto con le ontologie i vocabolari controllati e le tassonomie che vengono messe a disposizione a livello europeo che cosa sono le ontologie le ontologie sono delle strutture formali di rappresentazione dei contenuti che sono astratte ma permettono di svincolare i contenuti da una singola piattaforma e sono la base di quella che è l'interoperabilità semantica per capirci NPR di recente ha permesso al cittadino di scaricare i certificati stando comodamente sul divano di casa ma nello stesso momento è un passo verso l'interoperabilità cioè verso il fatto che i cittadini non dovranno più fornire dei certificati alle amministrazioni perché le avranno già grazie all'interoperabilità che permette lo scambio di dati fra pubbliche amministrazioni piuttosto che fra enti differenti piccolo inciso la trovabilità il sistema di content type e di argomenti facilita la trovabilità dell'informazione per gli utenti un po' più esperti facciamo un esempio l'esempio è il pagamento dell'Atari questo c'è nel template che viene messo a disposizione nella pagina con tutta la documentazione come vedete categorie e argomenti sono la base su cui costruire dei filtri e raffinare le ricerche questo è l'esempio come il comune di Cagliari ha adottato questi principi come vedete qua sono tutti gli argomenti è possibile raffinare la ricerca e la ricerca diventa molto più performante unite a content type e ad argomenti un altro elemento importante dell'architettura informativa è la profondità i livelli di profondità studi diciamo sulla psicologia cognitiva hanno fatto emergere come sono dopo il terzo livello di profondità un sito diventa difficilmente navigabile questo perché gli utenti si inseriscono vanno più in profondità in un silo se più si entra in profondità più è difficile uscire da quel silo trovare dei percorsi appunto più orizzontali o nel caso sia sbagliato è facile poi perdersi all'interno di questo silo il come dire il risultato quindi content type più argomenti più livelli di profondità ha dato origine a questo schema dell'architettura informativa con un home page un primo livello di informazione questo è il menu che vedete il menu di navigazione principale coincide una serie di pagine a lista e poi una pagina a foglia con il dettaglio dei servizi dei documenti delle schede oppure delle novità questo è il modello di architettura come viene messo a disposizione e come è stato raffinato nel corso degli anni da parte del team che ha lavorato la costruzione del modello come vedete come vedrete probabilmente meglio dalle slide non so se si riesce proprio a leggere la struttura degli argomenti dei contenuti è cambiata ad esempio sui servizi mentre prima si erano predilette delle azioni in questo caso invece la scelta è ricaduta di utilizzare delle categorie perché più funzionali per rispondere a quelli che sono i bisogni dei cittadini come vedete questo è il template come vedete l'architettura dell'azione scusate dell'informazione in azione cioè in pratica come vedete il menu principale di navigazione amministrazione novità servizi documenti e dati e dall'altra parte gli argomenti che permettono appunto questo tipo di navigazione più orizzontale l'applicazione del modello in qualche modo può essere anche diversa diversificata a seconda diciamo di quelle che sono le caratteristiche degli enti perché la forza del modello nasce proprio nella sua flessibilità ed utilità nel senso è radicata in una base solida in una struttura molto solida e testata ma dall'altra parte lascia anche spazio a quelle che sono le personalizzazioni sulla base di quelle che sono le esigenze degli enti la città di Bolzano ad esempio come vedete ha inserito un motore di ricerca proprio qua sotto la prima fascia del menu di navigazione piuttosto che la città di Verbagna ha utilizzato il modello riconoscete sempre content type e argomenti ha prediletto l'inserimento di un banner più diciamo evocativo illustrativo data la natura più diciamo la vocazione più turistica della città di Verbagna ad esempio il secondo livello si presenta in questo modo invece si presenta con una pagina lista in cui ritrovare tutte le categorie di servizi come stavamo dicendo e la possibilità naturalmente di inserire un motore di ricerca oppure di andare a utilizzare delle strategie differenti ad esempio il comune di Seui un piccolo comune sardo ha utilizzato la stesso tipo di impostazione per la gestione dei contenuti ma il comune di Rimini ad esempio ha deciso di non utilizzare il motore di ricerca ma ha lanciato un chatbot per favorire la reperibilità delle informazioni da parte dei cittadini la scheda invece più di dettaglio questo siamo appunto al terzo livello ultimo livello dell'architettura informativa questo è l'esempio di una scheda di servizio in cui vedete come gli elementi sono molto strutturati all'interno da un lato c'è il richiamo degli argomenti dall'altro c'è un indice della pagina la possibilità di avere titoli sottotitoli di avere testi e guardate come è stato utilizzato ad esempio dal comune di Ala che addirittura ha voluto inserire delle fotografie per rendere un po' più evocativi i contenuti il modello però non è diciamo anche in questo caso anche quindi nel caso delle pagine di dettaglio delle pagine foglia il modello è stato pensato sulla base di contenuti molto strutturati perché come vedete ho riportato da un lato l'indice della pagina così come viene presentato al pubblico e dall'altro lato la struttura che c'è sotto la struttura logico semantica che c'è sotto segue un ordine di priorità naturalmente le informazioni essenziali prima le informazioni importanti e le informazioni accessorie o quelle più generali ogni content type ha una sua propria struttura logico semantica dietro per cui è stato strutturato in un certo modo per favorire la trovabilità e la leggibilità dei contenuti e soprattutto per permettere ai contenuti strutturati di eventualmente di poter essere riaggregati e di fornire da un lato essere più semplice per un operatore che inserisce i contenuti solamente una volta e se li trova da più parti del sito dall'altro sulla possibilità di creare delle aggregazioni oppure di ampliare quelli che sono i filtri a disposizione del motore di ricerca ad esempio utilizzando un filtro data se è presente nella strutturazione del contenuto della pagina foglia tutta l'organizzazione dei contenuti che abbiamo visto quindi tutta la parte inerente dell'architettura dell'informazione e soprattutto la strutturazione del contenuto delle pagine foglia comunque è un passo necessario ma non sufficiente nel rendere pienamente fruibile e navigabile il sito istituzionale di un comune infatti c'è una parte diciamo inerente il linguaggio che riguarda il linguaggio che è altrettanto importante e questa slide vuole essere un'introduzione diciamo alla seconda parte di questo corso più dedicato al linguaggio ho pensato che l'esempio di Calvino con l'antilingua sia veramente molto come dire utile per descrivere l'importanza del linguaggio in un articolo apparso sul giorno nel 3 febbraio del 65 Calvino riporta un fatto naturalmente anche in questo caso inventato a cui una persona viene chiamata testimoniale per insomma come testimone di un furto accaduto in una bottiglieria e la testimonianza di questo signore è stamattina presto andavo in cantina a accendere la stufa la stufa scusate e ho trovato tutti i fiaschi di vino dietro alla cassa del carbone ne ho preso uno per bermelo a cena non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era scassinata bene dall'altro lato c'è l'esempio di come questa testimonianza è stata verbalizzata il sottoscritto essendosi recato nel prime ora antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico dichiara ad essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli eccetera 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 come vedete stiamo entrando un po' nel cuore dei temi del linguaggio soprattutto in quello che in gergo viene chiamato il burocratese che molte volte non rende la vita facile diciamo ai cittadini comunque di tutti questi argomenti ne parliamo nella seconda parte del corso per chiudere vorrei fare un breve riepilogo di quelli che sono i principali contenuti a disposizione vostra a disposizione di tutte le persone che vogliono riprogettare un ambiente informativo sul questi sono i link alla documentazione ai content type alla rappresentazione grafica alle linee guida di design ai kit di progettazione per ogni cosa comunque restiamo in contatto e in particolare tra l'altro se volete restare aggiornati sulle iniziative di design in Italia e di developer in Italia potete iscrivermi al link che Michela condividerà presto in chat e vi ringrazio e passo la parola quindi alla mia collega Daniela Iozzo eccomi grazie mille Matteo spero che mi sentiate tutti quanti in maniera in maniera nitida allora benvenuti io mi occuperò di di un intervento che in realtà è diciamo naturalmente connesso a quello di Matteo e riguarda la progettazione dei contenuti cercherò di affrontare questo 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 tema diciamo in maniera abbastanza corale anche sottolineando alcuni aspetti che a nostro avviso sono a volte trascurati nella progettazione dei contenuti in particolare dei siti delle pubbliche amministrazioni primo fra tutti il linguaggio ma toccheremo anche il tema della SEO cioè dell'ottimizzazione per i motori di ricerca e il tema del tono di voce risorse strumenti a disposizione e dove trovarli questo è il sottotitolo dei nostri interventi odierni prima di andare avanti volevo precisare perché ho visto insomma passare alcune domande che insomma su questo troverete il video della registrazione di queste lezioni su YouTube quindi nel caso in cui foste persi qualcosa e troverete anche i materiali che stiamo proiettando tra virgolette abbiamo avuto tutti quanti cura di inserire all'interno dei materiali dei link di rimando diretti alle risorse di cui parleremo per cui insomma dovrebbe essere molto semplice lato vostro ecco anche accedendo alla pagina del corso recuperare tutto quello che abbiamo detto ed accedere alle risorse allora quali sono gli obiettivi del mio intervento allora innanzitutto scoprire quali sono gli strumenti e le risorse a disposizione che riguardano il tema della progettazione dei contenuti sia all'interno del modello comuni sia all'interno di Designers Italia questo perché può essere utile per affrontare il processo di migrazione verso il nuovo modello oltre che per diciamo usarle e dialogare con eventuali fornitori che si occupano invece di fare questo lavoro per conto dell'amministrazione approfitterò durante questo speech inoltre di sottolineare una serie di buone pratiche che facciano da guida in particolare a un caso d'uso tipico che bisogna affrontare quando si si vuole adottare il modello comunico è quello della migrazione dei contenuti cioè come faccio a portare il vecchio assetto dei contenuti verso il nuovo cioè verso quello che è suggerito dal modello comuni dell'architettura del modello ha già parlato in maniera eccellente il mio collega per cui non mi soffermo ulteriormente trovate qui linkate le risorse quindi la documentazione di progetto lo spreadsheet di lavoro e la rappresentazione grafica che vedete che vedete in questo slide i contenuti appunto sono organizzati a partire da due attributi fondamentali che sono i content type e i tag secondo un sistema misto di classificazione e connessione e perciò vado diretta al punto e cercherò diciamo così nei limiti del tempo che abbiamo a disposizione di fornire alcune buone pratiche che riguardano appunto la migrazione da una precedente organizzazione di sito a un nuovo sito basato sull'architettura del modello comuni nel caso in cui appunto abbiate delle domande su quello che sto dicendo vi invito a scriverle in chat cercheremo di rispondere appunto nei limiti di tempo a diciamo alla maggior parte delle domande che arriveranno se non dovessimo farcela insomma ci saranno ulteriori occasioni sui nostri canali ufficiali per potervi fornire una risposta che cosa che cosa vuol dire migrare al modello comuni il modello comuni è una sorta di canovaccio è una sorta di scatola vuota che contiene delle regole all'interno delle quali incassonare dei contenuti dei contenuti di un sito prima però di fare questo lavoro diciamo di di trasposizione dal vecchio al nuovo bisogna ecco fare attenzione a considerare il fatto che il processo di migrazione oltre che in generale il processo di progettazione di un contenuto per un sito web della pubblica amministrazione ma non solo della pubblica amministrazione in generale deve come dire sottostare a una sorta di approccio corale alla progettazione che deve tenere conto per forza di linguaggio tono di voce seo intesa come ottimizzazione per i motori di ricerca e accessibilità che è una cosa particolarmente importante lo sapete meglio di me per i siti istituzionali perciò in questo schema ho cercato di riprodurre un po' quello che noi vorremmo proporre come approccio corale ecco e diciamo al di sotto delle varie porzioni trovate le risorse che mettiamo a disposizione quindi la guida al linguaggio della pubblica amministrazione per quanto riguarda il linguaggio e il tono di voce i modelli e i toolkit che stanno nel content kit e nel seo kit per quanto riguarda designers italia e poi insomma tutta la normativa che già conoscerete in termini di accessibilità cercherò di sintetizzare il processo di migrazione in queste tre direzioni in queste tre direttive allora organizzare la migrazione al modello quindi organizzare il prima e il dopo ottimizzare la trovabilità dei contenuti questa volta in senso esterno e non in senso interno cioè non secondo quello che diceva Matteo prima di me non all'interno del sito ma al di fuori del sito quindi rendere i contenuti il più trovabili possibili dai motori di ricerca e ultimo ma non meno importante semplificare il linguaggio e rendere coerente e uniforme il tono di voce in tutto il sito organizzare la migrazione al modello che cosa significa? di solito significa partire da un inventario ok quindi da un content inventory di tutte le url presenti nel vecchio assetto del sito sottolineo che quando si fa questo genere di lavoro che è propedeutico alla migrazione in senso stretto è opportuno iniziare a decidere è opportuno iniziare ad analizzare i contenuti presenti per decidere se ci sono alcuni contenuti che vanno aggiornati modificati o eliminati e buona pratica inoltre iniziare ad analizzare i contenuti attuali tra virgolette iniziando a capire se la metadatazione SEO quindi riguardante l'ottimizzazione dei motori di ricerca è corretta quindi se già rispetta le norme basiche poi suggeriamo di iniziare ad associare i vecchi contenuti ai nuovi content type e iniziare a creare un documento che possa supportare la mappatura dei redirect quindi per passare dalle vecchie URL alle nuove URL in che cosa Designers Italia può essere utile a questo scopo all'interno del nostro kit dedicato ai contenuti al linguaggio è presente una risorsa che si chiama modello di analisi dei contenuti è sostanzialmente uno spreadsheet un foglio di lavoro fatto in questa maniera qui spero che vediate abbastanza bene insomma nonostante lo zoom non sia eccellente quindi è una sorta di spreadsheet che vuole essere una guida ok per aiutare chi si trova ad affrontare il processo di migrazione nell'inventario di tutte le URL quindi ad ogni cella corrisponde l'URL di una pagina foglia o di un altro tipo di pagina e ci sono dei campi da riempire che possono riguardare lo scopo della pagina il content type il titolo del contenuto e se ci sono eventuali problemi anche qui trovate appunto il link diretto alla risorsa nel caso in cui appunto vogliate arrivarci direttamente per quanto riguarda la seconda direttiva ottimizza la trovabilità dei contenuti che cosa vuol dire questo come come accennavo poc'anzi quando vi ho mostrato diciamo così lo schema dell'approccio corale alla progettazione dei contenuti vuol dire innanzitutto avere un occhio molto attento a quella che è la search engine optimization quindi valorizzare intanto i metatag di base che sono il title la description l'alt test delle immagini l'anchor text dei link usare una corretta gerarchia degli headings cioè di titoli e sottotitoli e assicurarsi che stiano nell'ordine gerarchico corretto scrivere in maniera orientata alla SEO magari con delle chiavi semantiche nei testi ma senza esagerare per evitare di sovraottimizzare prestare attenzione alla struttura delle URL e perché no utilizzare uno strumento di diagnostica che ci possa aiutare a capire quando ci sono dei problemi in questo senso dal link rotto a problemi invece più seri perché insisto sul punto della search engine optimization della SEO perché in questo tema specifico ci sono delle numerose aree di sovrapposizione con i requisiti di accessibilità spesso ecco una buona metadatazione SEO è già un ottimo lavoro di partenza per avere un sito non dico accessibile al 100% ma ecco già accessibile in alcune delle sue parti anche qui su designers italia dove potete trovare qualcosa che vi aiuta in questo c'è un kit dedicato che è quello appunto della SEO dove potete trovare intanto una checklist cioè una sorta di lista di to do cioè di cose da fare e da ricordare per assicurarsi che un sito sia come dire ottimizzato per i motori di ricerca e poi un audit SEO cioè un foglio che è organizzato presto a poco come il content audit inventory di cui abbiamo parlato precedentemente però questa volta dedicato appunto alla tematica dell'ottimizzazione sui motori di ricerca ultimo punto ma appunto non meno importante semplificare il linguaggio e uniformare il tono di voce allora la prima cosa che mi sento di dire su questo è che probabilmente ancora troppi siti delle pubbliche amministrazioni utilizzano un linguaggio che è più vicino al legalese al burocratese che alla lingua italiana consiglio assolutamente di semplificare il linguaggio il più possibile quindi utilizzando un linguaggio chiaro mettendosi nei panni dell'utente non tutti gli utenti sono in grado di comprendere appunto termini particolarmente tecnici o frasi particolarmente complesse perciò il consiglio che diamo è strutturare il testo in paragrafi brevi utilizzare un linguaggio chiaro disambiguare il più possibile acronimi e termini tecnici rendere il tono di voce uniforme in tutte le pagine prestare attenzione perché no alla neutralità di genere che è stato un tema molto discusso recentemente e ridurre l'uso di inglesismi e di forestierismi una buona pratica su questo potrebbe essere quella di tradurre il più possibile tutto il traducibile laddove è impossibile perché una traduzione in italiano ne snaturerebbe il significato inserire comunque fra parentesi una disambiguazione del termine perlomeno alla prima occorrenza su questo abbiamo a disposizione la guida al linguaggio della pubblica amministrazione che è nata con l'obiettivo di fornire dei suggerimenti di scrittura e di tono di voce io diciamo vi invito a interagire il più possibile sulle risorse messe a disposizione delle seniors italia che sono forum e slack perché ci piacerebbe molto avere appunto dei vostri contributi su questo genere di argomenti e ne approfitto adesso per lanciare uno dei primi sondaggi della lezione che riguarda in realtà la vostra conoscenza sugli strumenti di cui ho appena ho appena chiacchierato diciamo ecco quali di questi strumenti di supporto alla progettazione vi piacerebbe conoscere conoscere meglio su quali di questi strumenti pensate che possa esserci ecco una potenzialità di approfondimento possa essere più interessante appunto approfondire l'argomento o anche immaginare delle nuove risorse che potremmo mettere a disposizione attraverso il sito ok grazie non so ditemi ditemi dalla regia quando più o meno ecco vi pregherei di utilizzare di utilizzare direttamente appunto il sondaggio che vedete in overlay sul mio sul mio schermo per votare perché ecco le preferenze che esprimete in chat non rimarranno registrate ok ok direi che ok forse ci siamo penso Antonella o Teresa che forse possiamo così non ti sento Antonella adesso si mi interessa mi interessa scusami ecco ci ho chiuso il sondaggio adesso Daniela questi sono i risultati allora quindi al 60% architettura informativa SEO a pari merito guida al linguaggio e content kit perfetto grazie mille ok quindi vado avanti io volevo rispondere brevemente ad alcune delle domande emerse nelle puntate precedenti del corso allora la prima è la seguente alcuni operatori amministratori richiedono la pubblicazione in home di tutti i contenuti con il risultato finale di non avere nessuna informazione prioritaria sì è vero è una cosa corrente ma la home page non deve mostrare per definizione tutti i contenuti la home page è se volete la pagina più importante del sito ma è anche la più generica cioè è la punta dell'iceberg di quella gerarchia di cui abbiamo parlato prima anche diciamo con Matteo perciò ha l'obiettivo di accogliere e di orientare l'utente verso i passi successivi all'interno del sito e peraltro non è detto che sia quella neanche più visitata perché se il sito è ben posizionato sui motori di ricerca la maggior parte delle persone accede al sito da altre pagine tipicamente dalle pagine foglia che possono essere news bandi eventi servizi e così via la seconda domanda la SEO viene tenuta fuori dalla progettazione e la risposta è no nel senso che ne abbiamo parlato fino a questo momento e ovviamente non è presente come disciplina se nel nel modello comuni ma deve essere assolutamente tenuta in alta considerazione durante tutto il processo di progettazione per diciamo gli overlap e le sovrapposizioni con accessibilità e soprattutto necessita di una manutenzione evolutiva continua quindi di check iterativi e di ottimizzazione continua quindi per ricapitolare anche qui avete una slide con i link diretti alle risorse quindi architettura del modello kit contenuti del linguaggio kit SEO e guida al linguaggio trovate qui anche una slide delle licenze aperte che utilizziamo all'interno di Designers Italia e che riguardano i contenuti quindi tipicamente la cc0 e la ccpy prima di lasciarvi la parola per eventuali domande che possono riguardare il mio intervento piuttosto che quello di Matteo volevo lanciare il nostro secondo sondaggio che poi è probabilmente anche un po' una provocazione ma è una cosa che mi interessa particolarmente e a proposito di tono di voce come pensate sia più corretto rivolgersi all'utente in un sito della pubblica amministrazione con la prima persona singolare o con la terza persona singolare perché anche qui ogni tanto ci sono ecco delle idee molto diverse su questo argomento e quindi volevo capire quale fosse la vostra opinione su questo ok grazie Daniela nel frattempo che i partecipanti rispondono ai sondaggi direi se Matteo Vabanesi può ricollegarsi in modo che man mano possiamo dare spazio a delle risposte eccolo alle domande che vedete nel box a destra per i relatori man mano possiamo dare diciamo risposta alle vostre domande in chat allora Giancarlo Malvasi ci chiede se gli argomenti sostituiscono le arre tematiche usate nelle precedenti versioni del modello per i comuni e se sì perché grazie allora questa è una risposta che dovrebbe essere radicata nelle scelte progettuali fatte all'inizio quando il modello insomma è stato concepito ed è stato poi piano piano progettato posso dire a naso che direi di sì perché gli argomenti sono molto più flessibili delle aree tematiche che sono dei contenitori di ordine semantico molto più alte e soprattutto avere una lista di argomenti permette di arrivare a un giusto equilibrio di granularità nel sistema di tagging cioè ovvero fare delle aggregazioni che non siano né troppo ampie né troppo ampie perché naturalmente poi restituirebbero sempre dei risultati né troppo piccole perché altrimenti i risultati sarebbero troppo granulari quindi in generale direi proprio di sì procedendo nelle domande allora Valerio Pinna nel caso dei comuni ma più in generale nei diversi siti anche regionali sono presenti anche siti tematici e speciali allora è verissimo in effetti questo è un tema che abbiamo rilevato da più parti tra l'altro sul canale Slack di Developers Italia dedicato ai siti dei comuni erano già immerse delle considerazioni simili ed è appunto un argomento che prenderemo in considerazione nell'aggiornamento del modello devo dire aggiungo che in origine il secondo livello quello che aggregava le categorie all'interno dei content type era pensato proprio per quello cioè per fornire un'aggregazione tematica e anche da utilizzare in funzione comunicativa però diciamo ha mostrato dei limiti da un punto di vista editoriale per cui in qualche modo è sicuramente un elemento ripeto che andremo a considerare poi questa perdonate non trovo il nome lo dico più che altro ai miei colleghi suggeriresti di organizzare i contenuti per content type per argomenti all'interno dei vari siti quindi di più siti per utilizzare la stessa nomenclatura tra tutti i siti in modo da garantire relazioni orizzontane anche tra i vari siti oppure sconsigliato perché forzerebbe un'architettura dell'informazione trasversale per tutti i siti beh per rispondere a questa domanda la risposta corretta è dipende nel senso dipende dal caso in cui questo principio viene applicato posso fornire un esempio che viene direttamente diciamo dalla mia esperienza professionale quando ci siamo trovati a dover rifare il sito di regione Piemonte il sito di regione Piemonte poggiava su 28 CMS per cui l'opera di razionalizzazione e l'inserimento di 28 CMS in un unico CMS ha naturalmente comportato dei vantaggi ma è stato un diciamo un processo abbastanza lungo che ha comportato anche un intervento da un punto di vista editoriale cioè siamo intervenuti anche a livello organizzativo è certo che questa cosa ha dei benefici perché permette di avere un unico database di contenuti strutturati che può essere anche analizzato e riutilizzato per n motivi e quindi porta sicuramente dei vantaggi bisogna capire però il caso specifico per capire se è veramente la soluzione giusta perché dipende da tante condizioni poi proseguendo sempre Valerio Pinna chiede una cosa inerente ai servizi suggerireste di proporre pagine dedicate per ogni servizio anche per i siti regionali allora anche in questo caso dipende da quanto l'ente gestisce direttamente i servizi nel senso di solito le regioni sono degli enti di programmazione per cui non gestiscono direttamente dei servizi se non forse sto pensando al pagamento della tassa automobilistica probabilmente c'è qualcuno probabilmente c'è è chiaro quello che sarebbe importante è avere comunque sul sito regionale una scheda servizio con il descrittivo del servizio e un accedere al servizio che porti direttamente poi che offre al cittadino poi direttamente la possibilità di entrare e usufruire del servizio questo perché il cittadino può atterrare sulla pagina del servizio banalmente da Google e quindi avere comunque una descrizione avere a portata in mano tutte le informazioni che servono per poi la corretta fruizione del servizio è comunque un elemento importante per la gestione diretta dei servizi dipende da come è strutturato anche poi il gestionale dell'ente in questione poi Fulvia Cavalieri nelle pagine l'indice non è possibile inserirlo a destra invece che a sinistra allora rispondo provocatoriamente anticipo con una battuta questo è un tema che è sempre dibattuto anzi si dice che il designer è la persona che è esposta da destra a sinistra in menu di navigazione lo dico in modo molto provocatore con massimo rispetto naturalmente per i colleghi in realtà nel nostro caso è stata una scelta che è radicata nella ricerca fatta con gli utenti e soprattutto in studi di psicologia cognitiva che ci hanno dato fornito una buona letteratura a supporto della scelta lascerei a Daniela per l'altra parte di domande vorrei ecco semplicemente non rispondere però diciamo riportare la domanda di Valerio Pinna che dice lo chiesi anche durante uno dei webinar precedenti avete suggerimenti o indicazioni da fornire per aiutare l'APA a semplificare i titoli degli atti ad esempio bandi o concorsi che molto spesso sono prolissi e poco comprensibili sì è un'ottima idea quindi insomma portiamo a casa questo suggerimento e sicuramente potrebbe essere molto utile avere una risorsa o delle indicazioni per semplificare questo genere di documenti sì non so ecco Teresa se allora eccoci eccoci allora sono le 15 e 25 quindi direi che raccogliamo tutte le domande che sono in evase e tra il termine del webinar e possibilità di chiarirvi in altre sedi le risposte alle vostre domande direi di andare adesso in pausa in modo da poter dare il giusto spazio al prossimo relatore e comunque i nostri relatori anche di questa prima parte rimangono con noi quindi se volete potete continuare a fare domande in chat e noi comunque le raccoglieremo e in qualche modo avrete la risposta ecco quindi direi che sono le 15 e 26 ci vediamo tra 10 minuti alle 15 e 36 ritorniamo in aula per continuare il nostro webinar grazie vi ricordo che potete porre ulteriori domande verificare che le vostre domande abbiano avuto risposta anche al link che vi ho segnato in chat che è il link sulla comunità sulla community Slack di developers Italia dove potete anche confrontarvi con altri colleghi sulle tematiche che stiamo affrontando andiamo veloci in modo da avere quanto più tempo è possibile per rispondere alle vostre domande chiedo dunque a Daniele Tabellini di collegarsi e verificare che webcam e microfono funzionino stiamo Teresa buon pomeriggio a te Daniele Daniele ci parlerà di come progettare e realizzare l'interfaccia utente ti do subito la parola Daniele a dopo per la risposta alle domande grazie mille allora buonasera a tutti il mio nome è Daniele Tabellini mi occupo di UI e UX design UI user interface o interfaccia utente UX user experience o esperienza utente due temi strettamente connessi me ne occupo al dipartimento per la trasformazione digitale da circa un anno e la lezione i prossimi 40 minuti farò una talk cercando di darvi dei riferimenti utili all'applicazione del modello utili a voi o utili al vostro lavoro con i fornitori eventualmente allora andiamo iniziamo dagli obiettivi di questa talk l'obiettivo è quello di scoprire gli strumenti e le risorse a disposizione all'interno del modello comuni sul tema progettazione dell'interfaccia esperienza utente come nel caso di Daniela vi sottolineava l'importanza di avere in queste slide link di avere i collegamenti diretti alle risorse una specie di indice a come fare cosa fare dove trovare le cose quindi oltre al fatto di presentarvela questa presentazione ci teniamo molto queste presentazioni che le usiate come strumenti veri e propri oltre al sito Web Designers Italia per poter arrivare direttamente anche alle risorse per avere anche un pro memoria quindi troverete nelle slide molti collegamenti me ne accorgerete perché ovviamente sono sottolineati obiettivo sapere dove sono e a cosa servono strumenti e risorse per poterli usare direttamente o per poter dialogare con i fornitori nel caso siate un'amministrazione che useranno queste risorse a cui chiederete di usare queste risorse e per capire anche come contribuire all'evoluzione del modello nelle prossime settimane barra mesi barra anni obiettivo del modello giusto una slide per ricordarci che cosa stiamo facendo l'obiettivo principale che a me piace molto sottolineare è sempre quello di non reinventare la ruota quindi fornire ai comuni e alle amministrazioni locali una libreria di componenti già pronte dal punto di vista dell'interfaccia che includa strumenti e pattern consolidati e validati già in sessioni di esperienze di validazione con gli utenti quello di consentire alle pubbliche amministrazioni di costruire la propria versione di sito data la modularità e data una variabilità necessaria anche nell'applicazione che integri specificità e unicità della propria città banalmente ma non tanto banalmente anche il solo colore della propria città l'emblema e da qui si può andare molto avanti avete visto gli strumenti sull'architettura nelle talk precedenti sono strumenti che possono servire anche a ragionare se la propria specificità può introdurre delle varianti e infine l'ultimo il più importante di tutto poi dal punto di vista della nascita del progetto che è quello di ridurre lo sforzo in termini economici e di lavoro per poter investire magari su cose specifiche creazioni contenuti creazioni servizi fornitura di allora iniziamo dalla fine nei webinar questo webinar come sapete è una parte di un ciclo stiamo raccogliendo oltre a rispondere in temporale raccogliamo nel tempo raccogliamo delle domande ricorrenti secondo noi utili da condividere con tutti quindi vi rispondo a delle domande che non ci avete fatto voi nello specifico l'altra volta ma che sommate in tutti i webinar sono state parecchio ricorrenti è possibile una dozione progressiva del modello la risposta è dipende dalle condizioni di partenza quindi se la realtà del vostro sito web delle vostre piattaforme o delle piattaforme che curate per un'amministrazione nel caso siate dei fornitori partano fanno tutto il percorso corretto quindi sono partite dalla ricerca dei bisogni dei cittadini e sono arrivate fino ai testi di usabilità sulle soluzioni proposte se l'architettura e i contenuti rispettano quanto vi hanno raccontato o comunque sono progettati con lo stesso cura di quanto mi hanno raccontato i miei colleghi precedentemente se c'è un ragionamento sensato di razionalizzazione dei siti tematici non ce ne sono una proliferazione come succede in molte realtà di 70-80 siti tematici se c'è un lavoro eccellente sull'accessibilità e sul rispetto delle norme sulle WCAG 2.1 come raccontava il mio collega Caccavello la scorsa settimana eccetera se c'è un lavoro sensato di aderenza alla linea via di design di progettazione mobile first se c'è un ragionamento sui servizi digitali e sull'area personale secondo me sì è possibile è possibile smontarlo prenderne delle parti funzionali se non è così conviene partire da zero conviene applicarlo il modello e chiedersi come applicarlo quali sono le risorse umane coinvolte le risorse umane coinvolte dipende anche qui dalle condizioni di partenza e dalla scala ovviamente per un piccolo comune è differente per un grande comune però il modello mi piaceva sottolinearvi ci piaceva sottolinearvi l'importanza che il modello vi dà delle cose in realtà già fatte o comunque che possono aiutare l'architettura dei contenuti l'interfaccia vengono fornite praticamente nel modello fino anche all'html css javascript quindi alla parte già di codice dell'interfaccia la modellizzazione e lo sviluppo la modellizzazione del content management system e lo sviluppo vede delle soluzioni possibili già a riuso oggi e ne sappiamo che ne stanno arrivando altre la valutazione accessibilità lo sviluppo e la modellizzazione del CMS è un'attività che viene in certo modo guidata o facilitata dal modello il progetto l'architettura e la redazione e i media secondo noi sono molto possibili per quello che abbiamo visto nei casi di applicazioni con risorse interne il resto delle attività sono attività che in molti casi se non in tutti sono risolute o sviluppate da fornitori esterni ci sono temi per CMS o content management system che si vuole da dire chiave in mano so che c'è già stata una domanda così anche oggi così do la risposta prima di arrivare allo spazio domande il modello è agnostico è stato pensato agnostico per non collegarsi a una tecnologia in sé ci sono ad oggi soluzioni già in riuso penso al comune di Caglia ricollentando un CMS molto particolare ma penso a quelle che sappiamo stanno arrivando per esempio in Drupal di alcuni comuni che hanno applicato sappiamo che ci sono template in via di realizzazione per alcuni altri CMS molto popolari penso a WordPress non direttamente da noi ma da altre soluzioni ovviamente ognuna applica in toto o in parte il modello c'è una sfida grossa una sfida tecnologica della ricerca così rispondo a alcune altre domande che ho già visto di oggi è stato progettato questo modello per essere il più possibile usato lato cittadino non soltanto per rispondere alle esigenze della pubblica amministrazione i secondi livelli pongono una sfida tecnologica di sviluppo della ricerca che può essere risolta in tanti modi e penso davvero a come l'hanno risolta i primi che hanno applicato il modello e ci stiamo anche noi ponendo il problema di riuscire a trovare una soluzione open e davvero in catalogo in riuso che vada proprio a incidere lì sulla sfida della ricerca quindi di un motore di ricerca abbastanza complesso che permette di fare quel tipo di navigazione in diversi CMS allora veniamo al vivo della presentazione poi le domande tanto si aggiungeranno vi risponderemo vi risponderò io o i miei colleghi al valo allora veniamo al vivo della presentazione quindi risorse strumenti a disposizione dove trovarli e questa volta parliamo di interfaccia utente si fa presto a dire risorse strumenti a disposizione o kit di progettazione spesso la sensazione è la stessa che si prova a Natale quando ti regalano una nuova confezione di costruzioni e la metti sul tappeto e ci sono tantissime costruzioni quello che proverò a fare in questa mezz'ora che staremo insieme è a farvi un po' da maestro Yoda cioè a cercare di porre ordine nelle cose iniziamo da alcuni termini da alcuni termini che in parte sicuramente conoscete però siccome siete molti è bene rivadirlo per almeno su questo essere consapevoli che tutti sappiamo di cosa si parla se è chiaro a tutti sicuramente che cos'è l'open source o almeno il un modo di sviluppare software di scrivere codice per software scrivere programmi algoritmi che fanno funzionare macchine con un codice aperto quindi con un codice leggibile anche da un umano e modificabile e integrabile con tutte delle dinamiche ben precise che apporta che a parte essere un obbligo nelle valutazioni comparative dato dal CAD è anche una possibile e anche l'architrave su cui si basa per esempio il catalogo del riuso di developers è uno dei modi in cui è stato scritto questo modello questo modello è tutto quello che vedete la parte software è tutta aperta è tutta su una piattaforma che ora vedremo bene che si chiama GitHub che non è altro che un drive condiviso dove scrivere software più umani fondamentalmente scrivere testi che poi sono come dicevo il mio professore incidentalmente eseguibili dalle macchine ma leggibili anche da umani quello che però mi interessa per cui c'è questa slide è parlare del concetto di open design qualunque immagine sorgente prototipo che vi farò vedere nelle prossime slide segue la stessa logica dell'open source solo che lo segue dal punto di vista del progetto anche del progetto visivo dell'interfaccia nel senso ogni cosa che vedrete è a disposizione su una piattaforma in questo caso la stessa GitHub da altre parti anche in formato sorgente quindi è possibile aprirla modificarla continuare a evolverla proporre soluzioni migliorative non c'è soltanto l'immagine che vedete nella slide o che trovate sul sito ma c'è anche il file sorgente che voi amministrazione o meglio alcuni fornitori che lavorano con voi possono aprire e usare per provare altre soluzioni per continuare a evolvere per migliorarle per capire come sono fatte per testarne altre strade quindi anche il progetto aperto non solo il software infine prima di entrare nel vivo bene un piccolo ripasso sulle licenze tutto quello che vedrete ha una licenza aperta una licenza d'uso aperta nel caso nostro e delle cose che vi farò vedere c'è la licenza bsd3 quindi una licenza compatibile con quelle indicate dal CAD dal codice di amministrazione digitale e dalle buone pratiche e dalle linee guida sul riuso e riguarda sia il sito web e i template che vi farò vedere sia i kit di progettazione dell'interfaccia e di sviluppo dell'interfaccia su cui si basano questi template in questa slide c'è anche il promemoria che tutti i documenti istituzionali i contenuti i liberatori privacy eccetera vi faccio il caso di designers itali ma questo dovrebbe valere per tutta la pubblica amministrazione se seguissimo quanto scriviamo nelle linee guida hanno la cc0 o pubblico dominio nel caso di designers tutte le risorse e gli strumenti per esempio i modelli di presentazione i fogli di lavoro che mettiamo a disposizione che avete visto anche prima per esempio i fogli dell'architettura hanno una licenza cc by sa 4.0 quindi creative commons con obbligo di citare la fonte e ricondividere nello stesso modo però per il resto è liberamente utilizzabile per qualunque tipo di progetto qui in questa slide troverete un link questo read me in basso a destra basta cliccarsi e ci si trova su una risorsa sviluppata internamente dal dipartimento per la guida alla migliore alla migliore licenza quindi uno strumento abbastanza utile in molti casi allora veniamo al vivo quindi stiamo parlando di interfaccia utente stiamo parlando di interfaccia utente del modello comuni quindi del modello di sito web di cui state parlando da tre lezioni da tre webinar da dove si parte? si parte dalla fine vi faccio vedere subito che cosa viene messo a disposizione a livello di interfaccia ai fornitori barra alle pubbliche amministrazioni che vogliono svilupparsi la soluzione viene messo a disposizione direttamente anche il prodotto template html del modello è stata fatta ad uopo allo scopo ve lo faccio vedere aspettate clicco ok è stata fatta ad uopo una nuova implementazione in cui c'è un'anteprima di tutte le pagine tutti i formati di pagina tutti i formati di contenuto a disposizione del modello c'è un link che troverete basterà cliccare qui su anteprima e vi troverete esattamente in questa home page che potete navigare poi quindi potete vedere come è fatta la pagina novità la pagina servizi una pagina argomento eccetera c'è corrisponde questo a un codice a uno sviluppo che è stato messo su una repository github github è questa piattaforma in questo caso io ho il tema scuro ma potreste avere il tema bianco potrebbe essere bianco in questo caso la repository o cassetto in italiano è praticamente github.com slash italia slash design comuni pagine statiche e qui c'è il link diretto ci troverete quindi potete cliccarci a queste repository ovviamente si arriva anche dal catalogo di riuso si arriva dal sito designers italia si arriva da molti posti però in questa presentazione abbiamo scelto di mettere tutti i link in modo che un po' serva da da virgilio se volete da guida nell'inferno di dante per chi di voi non è pratico lato sviluppo o non è prettamente in un dipartimento di sviluppo software basti sapere che github fondamentalmente è assimilabile a una directory a un drive online dove si possono pubblicare dei file tendenzialmente di testo che sia codice o che sia testo o che sia grafica e avere come vedete qua per esempio la data di ultima pubblicazione il motivo dell'ultima pubblicazione l'ultimo salvataggio e avere le persone che collaborano esistono strumenti per poter scrivere in più persone lo stesso file è un modo di collaborare alla stesura di software è nato molto tempo fa non abbiamo modo di fare la storia ma fondamentalmente è molto legata al sistema operativo linux e alla nascita di quel sistema operativo il modo di utilizzare git a noi ci interessa che è fondamentalmente un disco online dove si può collaborare dove si può proporre dove si può segnalare degli errori delle modifiche dove si può proporre modifiche prendere file qui trovate esattamente i file html che trovate nell'esempio l'elenco completo delle pagine qui c'è un link è un mini sito dedicato al modello comuni e c'è l'elenco completo di tutti i mockup quindi tutti i template interattivi già fatti di interfaccia che sono all'interno del modello quindi si va dall'home page a alcune prove alcuni template di area personale passando per i risultati di ricerca tutte le pagine di secondo livello con la ricerca in primo piano i documenti le novità i servizi e l'amministrazione che sono i secondi livelli principali e ce ne sono altre quindi siamo partiti dalla fine che poi spesso è l'inizio per un fornitore riavvolgiamo il nastro e vi faccio vedere come si è arrivati lì ve lo faccio vedere perché perché anche questo anche questi passaggi intermedi sono degli strumenti e delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei fornitori che si cimenteranno nell'applicazione del modello per in realtà lavorarci per modificarlo per chiedersi se risponde a tutte le esigenze per fare ulteriori test di usabilità per avere pezzi del puzzle o pezzi delle costruzioni lego per estenderlo e cominciamo dall'inizio quindi finito il lavoro sull'architettura e content type si è posto il problema di prototipare l'esperienza utente di lavorare su quella che si chiama UX l'esperienza utente quello che vi faccio vedere sono risorse che rispondono alla domanda a quali bisogni risponde il modello e risponde anche alla domanda se è possibile estenderlo quindi partire da questo modello per integrarlo di cose questa è una domanda ritorica nel senso la risposta è è possibile estenderlo sì è possibile per voi ed è possibile per noi perché è un modello in continua evoluzione e anzi chi lo applica sarebbe bene che se individua soluzioni di miglioramento legate all'usabilità o legate a test di usabilità o legate a miglioramenti di accessibilità o di tutte le cose che ci ripromettiamo di seguire sarebbe molto bene che tramite GitHub o gli strumenti del genere li proponga l'intera community tramite Forum Italy tramite lo Slack che è stato messo nel canale anche prima da Teresa allora vado veloce su questi gli strumenti che cosa sono gli strumenti che sono legati all'esperienza tenta e alla prototipazione c'è un link qua alla documentazione ufficiale del modello dove c'è una scheda che racconta gli scenari prototipati uno scenario è praticamente una storia scenario numero 01 approfondire un tema importante per la città e c'è la riscrizione cliccandoci sopra si arriva agli scenari utente che sono dei file degli spreadsheet banalmente che usano gli strumenti di Designers Italia per la creazione di scenari che raccontano esattamente quello scenario lo raccontano in vari modi lo raccontano alto livello con una storia utente di riferimento come funzionario deve poter accedere e gestire i contenuti eccetera eccetera lo raccontano con degli step gestione di contenuti generazione QR code cercando di identificare delle funzionalità questo è utile perché ogni foglio corrisponde a una storia ora non si vede perché sotto nella slide ma c'è anche eccoli qua un indice degli scenari che corrisponde alla documentazione e c'è un foglio di istruzioni che spiega come eventualmente integrarli e usarli o chiedersi se rispondono a tutte le nostre esigenze da questi scenari da questo lavoro di scenari è un file aperto quindi nessuno vieta per esempio di chiedersi se è possibile integrarlo o di trovare altri scenari e capire se le funzionalità prototipate o presenti nel modello già rispondono se ci sono competenze nei fornitori per esempio che sono adatte sono stati realizzati dei prototipi a media definizione prototipi a media definizione vuol dire dei prototipi interattivi quindi dei siti veri e propri in cui si clicca e si può andare a giro sia per mobile quindi per cellulare per smartphone a piccola risoluzione mobile first sia per desktop che è possibile navigare è possibile ve li faccio vedere c'è ovviamente la pagina della documentazione qui linkata che vi porta qua con il link poi diretto ad ognuno e in basso vedete il link repository github che ora vi faccio vedere l'anteprima per esempio questa è quella mobile del di scenari che aveva senso prototipare per cellulare avviene tramite un software che è online per una piattaforma che si chiama InVision e vi ho fatto questa schermata che se vedete ha tutti questi rettangoli celestini sopra le scritte per farvi capire una cosa che non è scontata utilizzando questi prototipi se uno si perde non sa dove cliccare nei prototipi basta cliccare in uno spazio vuoto che sia un tisolo che sia uno spazio vuoto si illuminano in pratica in questo colore celestino trasparente le zone cliccabili le aree cliccabili del prototipo quindi è possibile per esempio approfondire un tema della città scenario 01 cliccare entri dentro non sai dove cliccare clicchi sul vuoto ti fa vedere le zone cliccabili ogni scenario è stato prototipato in modo non completamente libero quindi non puoi cliccare in tutte le parti del prototipo puoi cliccare solo in alcune in modo da non perdersi da riuscire a prototipare la funzione identificata dallo scenario di questi scenari è a disposizione i file sorgenti in uno dei webinar precedenti credo l'ultimo la scorsa settimana è stato chiesto se era possibile avere i sorgenti in file sketch del modello comuni in realtà sono già a disposizione perché sono esattamente nello stesso posto dove sta tutto il modello lato codice quindi una repository di tab sempre vedete vi ho indicato con la freccia il file sketch siti comuni midfilescenari.sketch è indicato anche sotto nel file leggimi nella spiegazione di quella repository è interessante aprirlo in sketch sketch vi ricorda una licenza gratuita di un mese se qualcuno di voi ha curiosità di aprire questi scenari per vedere come sono fatti sketch.com è un file è un programma che è stato scelto perché era l'unico all'epoca ad avere un file in uscita che era praticamente di testo computazionale quindi assimilabile a un file open source volendo si poteva editare con un file di testo è ovviamente apribile anche in programmi come Figma che sta andando sempre più di moda e anche giustamente per la collaborazione e per la pandemia che stiamo vivendo da due anni è utilizzabile anche in Adobe XD basta importarlo una volta aperto si trova quello che vedete qui a destra quindi si trovano gli stessi schermi dei prototipi collegati con delle frecce vedete che si possono vedere in un certo modo ma al massimo uno le vede a fianco all'altro uno a fianco all'altro si trova esattamente tutti tutti gli schermi con i contenuti fittizi prototipati per i prototipi lo scenario si chiama mid file questo tipo di prototipazione vedete perché non è in alta qualità quindi non ci sono l'icone non ci sono i colori è tutto in bianco e nero però non è nemmeno in bassissima qualità perché la griglia le dimensioni i testi spesso sono tutti corretti si è cercato di essere il più possibile realistici già in questa prototipazione vado avanti una volta finito il lavoro di prototipazione dell'interfaccia dell'esperienza utente il lavoro che è aperto quindi è possibile usare o chiedere a un fornitore di usare senza reinventare la ruota ripartendo da zero è stato fatto un lavoro sull'interfaccia qual è e dov'è il progetto per l'interfaccia utente questa è una slide che funziona esattamente come le precedenti quindi c'è un link che porta la documentazione la pagina specifica del prototipo Hi-Fi tradotto in italiano alta qualità alta fedeltà che è il prototipo che contiene esattamente la grafica che uno vede quando naviga il modello vero e proprio quindi è un prototipo utile non a vedere le funzionalità ma a vedere in realtà l'aspetto di come funzionano le varie funzionalità c'è di più vedete già in questa immagine si nota bene c'è anche all'interno di questo lavoro un ragionamento su come una pubblica amministrazione può adottare una propria identità visiva per esempio dentro quindi di colore di schema di colore di colori affini da utilizzare di dimensione di testo di dimensioni del simbolo di modalità per cambiarlo questo file è ovviamente come nel resto che avete visto a disposizione in due modi è a disposizione un'anteprima su InVision non interattiva quindi uno si arriva si trova alla home page se arriva da questo link o se arriva dal sito designers itali o dal sito del modello si trova la home page per vedere tutte le pagine o scorre con le frecce o clicca in basso a destra sulla classica icona per vedere le thumbnail che uno è abituato anche nei programmi di fotografia ci sono 4 quadratini uno clicca e si trova esattamente questa schermata che vedete qua a sinistra con tutti i layout in alta qualità in alta fedeltà cioè corrispondenti ai layout poi sviluppati in codice ci sono sia desktop che mobile credo tutti fondamentalmente vedete qui desktop in alto 11 schermate mobile 9 sotto e rappresentano più o meno tutti io in realtà credo ogni tipologia di contenuto che è stato prototipato e è realizzato nei template html finali a cosa è utile avere accesso a questi file oltre a vederli vedere com'è un'interpretazione agnostica slegata anche dal codice volendo è utile anche perché sono a disposizione i due file sorgenti quindi come prima i due file .sketch che sono nella stessa repository slash italia slash design comuni prototipi c'è il link qua a destra c'è anche il link sulla documentazione del modello ovviamente però come riepilogo c'è anche qua concept è un file sketch che contiene proprio il concept grafico quindi come si genera la palette colori il concept nel senso l'idea grafica visiva e lo stile visivo i file per sviluppo è un file invece pensato apposta per gli sviluppatori e quello su cui hanno lavorato il gruppo che poi ha sviluppato i template HTML quindi contiene misure proporzioni griglie in evidenza e non la parte invece magari di styling visivo se un comune per esempio faccio un caso d'uso di questi file un comune ha bisogno di chiedere a un fornitore di vedere il modello applicato con la propria brand image o i propri colori o con alcuni blocchi disattivati perché per esempio non è interessato o è talmente piccolo che non ha bisogno di avere gli eventi non page questi file praticamente un fornitore con un designer UX bravo che sa usare sketch film o XD bravo l'ho aggiunto ma potevo non dirlo ci mette 15 minuti a levare un elemento a cambiare colore fondamentalmente quindi è un'attività che a proposito di risparmio e permette magari di spendere soldi per farsi prototipare nuove funzioni o per fare nuove cose per sviluppare infografiche grafiche sto andando un caso d'uso a caso però abbastanza realistico che abbiamo visto di recente infine per darvi contesto su cosa si basa la costruzione di questo palazzo si basa su delle fondamenta l'interfaccia usa una libreria di componenti standard e la risposta è sì che cosa usa? un kit UI un kit di interfaccia user interface come dicevo che è quello fornito da Designers Italia anche in questo caso questa se andate su Designers Italia slash kit slash progettazione interfaccia utente che poi è esattamente questo link qua se ci cliccate nelle presentazioni vedrete che c'è progetto interfaccia utente di un servizio digitale e dentro c'è Design UI kit componenti e template ufficiale del design system della pubblica amministrazione italiana sta diventando sempre di più un design system abbastanza assimilabile ai paragonabili inglesi e americani migliorerà molto nei prossimi mesi già c'è una roadmap che pubblicheremo nelle prossime settimane è un kit UI che comprende una libreria fornitissima abbastanza grande sempre per sketch di componenti è una libreria proprio componenti come sarebbe una libreria di componenti di puzzle da assemblare per fare interfaccia anche in questo caso c'è un'anteprima su InVision navigabile basta cliccare navigation è uno vero e tutti gli elementi colors vero e tutti i colori e c'è l'accesso a una repository fatta apposta Design UI kit sotto il dominio Italia che contiene un file sketch che si può usare in due modi mettendolo come libreria dentro sketch o dentro figma per esempio per utilizzarne i componenti oppure si può aprire come file e vedere che cosa c'è scritto perché ci sono scritte informazioni per l'uso è ovviamente un kit per designer UI o designer UX questo non è direttamente per la pubblica amministrazione però secondo me è molto interessante usarlo e sapere che esiste e chiedere di usarlo in realtà perché ve lo racconto dopo una piccola domanda che chiedo alla regia di mandare credo sia la 3 il sondaggio 3 eccolo sì a cui vi chiederei di rispondere perché è una domanda che serve anche a noi per che può essere d'uso di interesse per coinvolgere alcuni dei partecipanti nelle prossime settimane a delle attività di sviluppo di questo kit che avete appena visto vi do qualche minuto per rispondere hai usato o visto usare le risorse UIKit ovviamente i no saranno preponderanti su questo ce lo aspettiamo ovviamente perché è una risorsa molto tecnica però è interessante vedere tra quelli che risponderanno sì anche il tipo di tool quindi per chi non è pratico di tool di UI UX fondamentalmente ci sono tre software sul mercato che sono questi tre che hanno caratteristiche molto diverse attualmente il kit è su Sketch perché era l'unico che aveva un file formato open source standard quindi un file di testo che era possibile mettere su GitHub è in corso una valutazione per fare un porting ufficiale su Figma che è un software che visto il periodo che stiamo vivendo è sempre più utile e comunque c'è la preoccupazione di far sì che tutti e tre siano software che possano aprire il kit UI mi raccomando rispondete direttamente sulla finestrella che vedrete non nella chat perché se no non rimangono i dati del sondaggio penso che diamo un minuto per integrare a quelli che avevano risposto in chat e penso che per noi siano comunque significative chiederei Antonella di togliere il sondaggio così proseguiamo verso la parte finale ok vado avanti grazie a tutti per la risposta perché vi dicevo che è importante quel kit non soltanto per usarlo eventualmente è importante per segnalarlo ai fornitori perché perché corrisponde esattamente a un kit di sviluppo di componenti e pattern dell'interfaccia già fatto in realtà che è curato in parallelo quindi si possono fare mock-up e prototipi di cose che poi è tra virgolette molto facile chiuse virgolette sviluppare o in parte potrebbe essere in realtà quasi essere in automatico da questo punto di vista anche qua far fede la pagina su designers italia sviluppare interfaccia del tuo progetto web sotto slash kit designers punto italia punto it slash kit slash sviluppare l'interfaccia utente e la risorsa come vedete ce ne sono due bootstrap italia e react ovviamente stiamo parlando di temi che saranno più comprensibili per gli sviluppatori tra voi o per chi ha accesso diretto anche al dipartimento di sistemi informatici però vi basti pensare per tutti gli altri che sono un po' se io posso giocare con i puzzle grafici con il kit UI in un programma di grafico e farmi fare il mockup la sto banalizzando ma è più o meno questo e posso fare dei prototipi visivi molto velocemente se li faccio e uso quei componenti quando vado in mano agli sviluppatori gli stessi componenti se li ritrovo in una libreria di componenti che è bootstrap italia qui vedete ci sono introduzioni a bootstrap italia esempi di applicazioni esempi di progetti di basati su bootstrap italia c'è poi un altro pezzetto un'altra risorsa che è React che è un altro framework per sviluppare direttamente il nostro il nostro kit UI proposto da Designers Italia con una tecnologia molto contemporanea che è React il kit non è allo stesso livello di integrazione di sync con il kit UI di bootstrap italia ma nelle prossime settimane barra mesi subirà un'accelerata e sarà importante perché è un modo molto contemporaneo di scrivere applicazioni sotto quello che mi interessa farvi vedere però è bootstrap italia in questo momento c'è un mini sito dedicato che lo racconta e vedete a sinistra praticamente c'è tutti i componenti qui siamo dentro la pagina header quindi testata e dentro c'ho la resa visiva già responsive e il codice che devo usare per far sì che sia così con le famose classici SS di bootstrap si basa su un framework che è bootstrap vi posso già anticipare così anticipo una delle domande che sicuramente ci sarà che nei prossimi mesi settimane barra mesi orizzonte primavera verrà fatto un porting anche qua a bootstrap 5 quello che è bootstrap italia attualmente è bootstrap 4 ovviamente verranno fatte valutazioni su quanto verrà manutenuto il 4 e vi segnalo a tutti che bootstrap 4 bootstrap non bootstrap italia finirà la sua epoca di mantenimento nel prossimo autunno 2022 quindi entro quell'epoca dovremo cercare di aver migrato tutto quello che è stato fatto per fortuna tra i due non c'è molta differenza core è solo un problema di naming delle classi questa è una frase solo per i sviluppatori tra voi bootstrap ovviamente ha la sua repository github molto animata vedete issue 81 pure quest 23 e da qualche tempo anche noi ci stiamo rimettendo prepondentemente le mani non solo la community che per fortuna ha sopperito in questo anno e mezzo e c'è una volontà di portarlo avanti molto quindi se vi chiedono se usare il kit UI bootstrap italia la risposta è sì e verrà manutenuto tanto anche a livello centrale oltre al fatto che c'è una community molto ricca chiederei a Antonella di mandare l'altro sondaggio per favore è sempre utile per noi nell'ottica del lavoro che sta per partire di aggiornamento di aggiornamento nel senso non che cambia bootstrap italia di aggiornamento evolutivo grosso anche a livello centrale oltre a quello che può fare la community esatto visto usare le risposte bootstrap italia sì la mia amministrazione e l'organizzazione lo usa per servizi di recitali e siti web sì ma la mia organizzazione non lo usa no non ne sono a conoscenza nessun voto dalla differenza tra questa risposta e quella prima immagino che ci sia una competenza più informatica tra di voi nel pubblico è molto interessante anche il fatto che un 15% più di 30 persone no 30 persone circa l'abbia sa che cos'è ma la propria amministrazione o i propri servizi non lo usano per noi come informazione quindi vi pregherei di rispondere anche in questo caso al sondaggio e non in chat per favore e perché è veramente importante per noi in questo tipo di dati della community vi invito a frequentare lo Slack Developers Italia ci sono dei canali se non sapete usare Slack o comunque a un sistema di chat quando entrate dentro funziona a canali fondamentalmente come se fosse un foro ci sono tutta una serie di canali design trattino qualcosa e design dev oltre a design siti comuni sono abbastanza frequentati e sviluppano progetti di dentro la community stessa oltre a noi ho già una risposta perché la scelta di React chiede Salvatore Morante e non anche altri non anche altri è auspicabile speriamo che la community su questo lavori React è dovuta a una scelta della community a un best case nel senso che la spinta per React nacque dalla community ormai due anni e mezzo fa alcune risorse ci lavorano tantissimo esterne a noi in realtà proprio della community di developers Italia e lo portarono parecchio avanti è considerato una delle tecnologie comunque più contemporane più sviluppare auspichiamo tutti che ce ne siano di più ma ovviamente l'effort deve venire da tutti anche dalla community non può essere solo centrale chiederei a Antonella di togliere la slide così arriviamo alle conclusioni credo di essere anche in orario allora quindi due slide ho soltanto un minuto a slide quindi ricapitoliamo dove trovo il modello questa è una slide per voi una slide finale di link fondamentalmente che vi portano alla pagina modello alla documentazione all'architettura agli scenari ai wireframe mid-fi quindi al prototipo in bassa qualità media qualità però con tutti gli elementi cliccabili ai template in alta qualità direttamente html ai template e alle applicazioni sul catalogo del riuso perché la pagina di Designers Italia sul catalogo del riuso è stata di recente aggiornata negli allegati e c'è anche dei link diretti infine l'ultima slide l'ultima slide è un po' una slide che si scosta da quanto vi ho appena raccontato però abbiamo ritenuto utile metterla PA Digitale 2026 molti di voi sapranno che è andato online da qualche giorno il sito padigitale2026.gov.it che è la piattaforma ufficiale che è stata creata dal MIT dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale del Dipartimento per la Trasformazione Digitale per tutte le opportunità legate al PNRR legate al digitale vi invitiamo a iscrivervi sul sito per ricevere aggiornamenti anche perché come sapranno molti di voi alcune di queste opportunità sono in particolar modo dirette anche all'aggiornamento dei servizi digitali dei propri siti digitali quindi si collegano direttamente con quanto vi stiamo raccontando e con l'applicazione eventualmente nel modello comune vi invito a cliccare in alto a destra ricevi aggiornamenti e a segnalarvi per riceverle perché mi sembrate il target perfetto per questo tipo di ci sembrate il target perfetto per questo tipo di lavoro e comunicazione io infine lascio la parola a Teresa sono disponibile a rispondere a delle domande che non ho letto quindi mi dovete dare un attimo di tempo per leggerli allora Daniele in chat hanno richiesto di verificare anche i risultati dei sondaggi perché alcuni sono stati diciamo troppo veloci e quindi non hanno potuto guardare esatto Antonella se può rimettere tutti i risultati ribadiamo che però i partecipanti non possono rispondere adesso al sondaggio quindi è solo per mostrarvi i risultati diciamo finali e nel frattempo Daniele se cominci a guardare le domande che sono arrivate io aggiungo grazie Teresa aggiungo un'informazione che è questa per domande specifiche sui template HTML sul riuso o sulle licenze vi rimando direttamente al prossimo webinar perché so che sarà il core del prossimo webinar io ovviamente dato il mio lavoro e quello che vi facevo vedere ho messo alcune slide anche per creare un ponte con il prossimo che è quello di sviluppo riuso e open source però ve lo esposto direttamente lì non vi offendete se non vi rispondo direttamente perché molte della presentazione del prossimo webinar è esattamente su quello e scommi ne ho viste già un paio allora vediamo un attimo guardo le domande guardo le domande allora esistono modelli template già pronti per il CMS se template si parla di template di temi quelli che sono a riuso attualmente mi sentirei di rispondere e poi in parte la risposta che ho già dato prima all'inizio questa è una domanda di Roberto Fabrizio vediamo altre domande Antonio Mangi salve qualcuno sta lavorando a un'integrazione del webkit con un ERP tipo Odoo e la risposta qui è solo non lo so in realtà e nessuno di noi è in grado di saperlo in questo momento però è la tipica domanda che su Slack developers potrebbe avere molto interesse invece ora non so se era riferita a tutto il modello comuni o soltanto a pezzi di kit quindi all'interfaccia dente in ogni caso rimanderei lì Antonio Mangi a fare la stessa domanda che potrebbe esserci sicuramente qualcuno nella community che lo sta facendo per un comune che abbia già realizzato il proprio sito con il CMS WordPress e il kit design Italia cosa deve aspettarsi allora questa è una domanda che avrebbe bisogno di ulteriori domande al contrario mie perché il kit design Italia dal punto di vista nostro vuol dire tutto e non vuol dire niente se la domanda è posso usare WordPress per implementare il modello comuni la risposta è sì la cosa che io vedo molto complicata è la parte della ricerca e rispettare i template della ricerca che è un po' la stessa risposta che darei se qualcuno mi chiedesse se è possibile implementarlo in Drupal però gli risponderei anche che alcuni come il comune di Rimini l'hanno fatto e stanno lavorando per esempio per integrare soluzioni ad hoc per la ricerca cosa deve aspettarsi nel senso di manutenzione centrale di un CMS non ne ho idea questo bisognerebbe chiarire meglio qual è il caso d'uso e se è uno sviluppo ad hoc di un fornitore su questo bisogna un attimo capire quando verrà rilasciato Bootstrap Italia 5 allora Bootstrap Italia 5 verrà quello che posso dirvi perché ne sono il responsabile del capitolato di aggiornamento per oggi è semplicemente che nelle prossime settimane quindi si spera entro fine anno verrà resa a disposizione di tutti due cose uno una roadmap pubblica ufficiale di come verrà aggiornato e di come verrà fatto questo porti questo porting verrà data comunicazione su CISO Resigners Italia sicuramente e l'obiettivo è averlo pronto per primavera ma entrare più nello specifico non saprei dirvi vi posso dire che entro Natale è nella nostra intenzione pubblicare una roadmap in tal senso e vi posso sottolineare il fatto che Bootstrap 4 fine del prossimo autunno 2022 finisce l'epoca di manutenzione quindi dovremmo tutti come pubblica amministrazione che lo usa forse il problema ma anche chiunque usa Bootstrap Internet Explorer non è più supportato e non sarà più supportato da una brutta notizia Gianluca Bosco che chiedeva se Bootstrap 5 non è supportato da IE il problema è che qualunque linee guida che uscirà non supporterà più IE che è a fine vita fondamentalmente su questo nel prossimo webinar i miei colleghi sono più intitolati di me a raccontare la storia però è sceso anche sotto la soglia dei browser al 2,5% d'uso che è quella per cui nelle linee guida di Agile si garantisce il supporto e poi è fine vita ormai l'ha pure più finita finalmente se posso dirlo ad alta voce tanto anche se finisce come video registrato non credo che offenderà a nessuno dottor Tabellini no vi prego non chiamatemi il dottore che non sono laureato indicazioni info molto interessanti una domanda perché è così tutto frammentato Roberto Fabrizio a livello di CMS open source da usare di template da far creare sulla base di integrazione tecnica di UI UX generale allora Roberto Fabrizio questa è una domanda molto interessante noi ci stiamo ponendo il problema di raccontarlo meglio il lavoro che abbiamo fatto per questi corsi infatti anche di razionalizzazione degli URL e di slide con URL e indicazioni è anche un lavoro preliminare a quello che stiamo per fare anche sul sito di designer se vorremmo nei prossimi mesi rimettere mano a come viene raccontato e come viene presentato il modello la scelta di frammentato è una scelta di sostenibilità anche del progetto e di non imposizione nel senso che poi i fornitori date le specificità possono prendersi i pezzi e montarlo è importante però raccontarlo tutto e raccontarlo anche a voi che siete RTB magari di una pubblica amministrazione anche se poi non ci metterete mai le mani fisicamente su quegli strumenti perché voi avete bisogno di sapere che cosa un fornitore ha a disposizione un fornitore è in grado di prendere questi pezzi e montarli o evolverli e creare altre cose è ovviamente diverso da avere un prodotto chiave in mano da comprarsi una Porsche quindi stiamo dando motore finestrini baule e poi ovviamente si chiede ai fornitori di supportare la pubblica amministrazione nell'applicazione del modello più applicazioni vengono fatte vengono messe nel riuso e questo ve lo racconteranno la prossima volta più ci saranno anche applicazioni chiave in mano ovviamente e mi fermo Matteo voleva intervenire rispetto a qualche rispetto a un'ultima domanda lascio Matteo rispondere alle due perché il template WordPress chiede nada a grisoni dei comuni e personalizzabile in termini di colori e loghi mentre quello per le scuole no verrà aggiornato con la possibilità di essere maggiormente personalizzabile fra ogni istituto in realtà mi rimango la parola perché non ho la risposta a questa domanda vi dico la verità perché i due modelli sono nati con due esigenze e per rispondere a due cose ben diverse e su quello scuole in realtà non è l'oggetto del corso di oggi però è la stessa domanda che in realtà rifatta su forum italia o su slack developers nel canale design city scuole ci darebbe modo di rispondere meglio a noi e potenzialmente anche di vedere soluzioni proposte da altre scuole per cambiare esattamente colori e loghi che già esistono essendo open source lascio a Matteo sì allora c'era una domanda di Pasquale Mastrangelo che chiedeva quanto utilizzabile il modello predisposto per i comuni per i siti delle province ad esempio l'ho detta con l'intonazione sbagliata spero si sia capita lo stesso la domanda allora al momento non ci sono dei veri e propri fork del modello però il modello comune è stato utilizzato per realizzare diversi tipi di siti ad esempio è stato preso come base per realizzare siti universitari dedicati all'orientamento in particolare dell'università di Pavia e di Siena è stato utilizzato ad esempio anche dall'asl di Trento per il sito appunto istituzionale dell'asl e addirittura c'è giunta diciamo notizia insomma che abbiamo potuto vedere verificare è stato utilizzato per una parrocchia quella della parrocchia di Cazzaro di Pianiga o Pianiga adesso l'accento mi scuserete per l'accento questi esempi sono stati tra l'altro oggetto di una community call cioè i momenti formali di confronto che noi come designer in Italia organizziamo insieme a Devero per Italia e ai quali insomma l'invito è di iscrivervi e partecipare iscrivendovi al link che viene condiviso che Michela adesso sta condividendo in chat perché sono delle occasioni di confronto molto importanti dove emergono o possono emergere questo tipo di temi e in effetti quello diciamo dei derivati passate nel termine del modello era emerso e l'avevamo appunto trattato poi altra domanda Kib Jim fatti cento e gestionale attualmente presenti quanti sono in grado di applicare una ricerca con multiple funzionalità di filtraggio come mostrato nella slide precedente è una bella domanda questo io devo dirti non ti riesco a rispondere con una percentuale 8% 80% non riesco a fare questo tipo di valutazione sicuramente è un dato di fatto che non tutti i motori di ricerca interni performano alla stessa maniera però è altrettanto vero che si possono aiutare i motori di ricerca interni strutturando i dati nel senso più il dato è strutturato più è semplice il lavoro del motore di ricerca lo dico a grandi linee non ho una formazione tecnica per entrare naturalmente nel dettaglio certo questo non è comunque vero in assoluto ma è chiaro che se tu fornisci degli appigli al motore di ricerca il motore di ricerca eviterà di performare solamente su del mero testo quindi su del mero contenuto non strutturato e quindi in qualche modo anche da un punto di vista della trovabilità dei risultati potrebbe avvantaggiare e migliorare le performance del motore di ricerca c'era altro c'era quanto tempo è previsto il rilascio e aggiornamento del modello comuni questa è una domanda a cui anche qui è difficile rispondere con una precisione però sicuramente un primo aggiornamento dovrebbe essere rilasciato per la prima metà del 2022 per cui grosso modo mi è difficile dare un'unicazione temporanea più precisa ma insomma dovremmo dovremmo restare all'interno di quella finestra ecco non so se c'erano altri Matteo ti rubo la parola rispondo all'ultima domanda e poi rimandiamo agli altri gli altri nel prossimo webinar il compito di rispondere a quelli in evase suggerisco a tutti quelli che hanno fatto domande che sono in evase non credo siano tantissimi anche di rifarle su Developers Italia perché sono tutte molto interessanti però mi sembra interessante rispondere può essere anche un buon modo di chiudere questo pezzo sull'interfaccia utente alla domanda e alla considerazione che fa da signorino in chat in questo momento quindi la leggo a voce alta e a disposizione di tutti l'uso di framework vedi UIKit vedi bootstrap vedi material è per rifedizione la strada percorsa dai non esattamente addetti ai lavori il professionista disegna e costruisce interfacce componenti visive ad hoc paradossalmente l'impiego di un repertorio predefinito limita il designer esperto al contempo incastra i non esperti in un contesto di libera composizione che non incoraggia né migliora la progettazione logica e fluida dei processi ecco tutto quello che ha detto ma fatta signorino lì è esattamente sbagliato nella mia esperienza di designer di interfaccia in realtà e lo potete vedere nel vostro lavoro quotidiano se frequentate i grandi player in definitiva o team di designer che lavorano all'interfaccia di esperienza utente tutto sta andando invece verso la standardizzazione da una parte della creazione di componenti sia per coerenza visiva sia per possibilità di validare elementi come accessibilità e uso da una parte e dall'altra permettere la creatività o meglio molto meglio la professionalità di un designer nello studio di elementi di interazione quindi non il singolo pulsante come fatto ma come quel pezzo di interfaccia si integra nel processo dal punto di vista di un professionista è esattamente l'opposto in realtà risulta molto più amatoriale inventarsi sempre la ruota voleva intervenire un attimo Daniela se può accendere il microfono prego grazie 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 Teresa allora io volevo non dare una risposta ma diciamo dare alcune indicazioni sul visto che è stato chiesto in chat sul sul sondaggio che abbiamo che abbiamo lanciato uno dei primi che riguardava appunto il come rivolgersi all'utente sui siti web della pubblica amministrazione se dando del tu o dando dando del lei insomma allora in realtà non ci sono indicazioni chiare su questo aspetto se non che dare del tu all'utente è una pratica molto diffusa nel mondo commerciale naturalmente è una pratica mutuata anche dalla lingua inglese che naturalmente non ha questa distinzione tra il tu e il lei appunto verso le persone le vostre risposte diciamo mi confermano che ci sono due linee di pensiero diametralmente opposte su questo argomento perciò mi piacerebbe continuare a diciamo portare avanti questa discussione perché vorremmo ecco proporre delle buone pratiche anche da questo punto di vista all'interno della guida al linguaggio quindi vi invito a dirci ancora di più la vostra su questo tema nei canali dedicati appunto su Slack Developers nonché all'interno del GitHub dedicato alla guida al linguaggio anche su Forum Italia insomma a seconda delle vostre rispettive competenze ok allora abbiamo sforato di qualche minuto ma penso che sia stato utile a tutti diciamo avere questo prosieguo e ci sono ovviamente tante domande che sono rimaste in evase come giusto che sia visto i numeri a cui ci rivolgiamo e quindi vi invito a porre le vostre domande sulla community Slack e ad attendere le eventuali risposte al prossimo webinar il prossimo webinar che sarà martedì prossimo sempre dalle 14.30 alle 16.30 ed avrà come titolo dalla progettazione allo sviluppo del sito web di un comune io ringrazio tantissimo i relatori per non solo i contenuti ma anche il rispetto dei tempi e anche la disponibilità a rispondere a quanti più domande è possibile nei tempi ovviamente che abbiamo quindi ringrazio Matteo Babbanesi Daniela Iozzo e Daniele Tabellini del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e ringrazio tutti i colleghi che si sono occupati della parte tecnica Michele Gabrielli Michela Gabrielli del Dipartimento che è la responsabile scientifica che ci segue sempre in BEC allora ci diamo appuntamento a martedì prossimo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti